Scoppia dopo quasi due livelli, proprio in chiusura di questo dei due, la bolla, quindi tutti i giocatori 150 sono a premi, Sergio Bassi è il bubble man rimasto cortissimo praticamente con due ante, si è schiantato contro Coppia Dassi. Tanti giocatori professionisti rimasti in gara nei primi 150 di questo Ipo 18, tra questi c'è Antonio Bernardo, Claudio Suissi Rinaldi e Salvatore Bonavena, tanti giocatori regolar di campione come Roberto Babà e come Vincenzo Scarpiti, insomma sarà una grande gara domani nel Day 3 fino ad arrivare al Final Day lunedì con una prima moneta in palio da 200.000 euro.